Buone notizie per chi in cerca di una casa popolare. L'amministratore unico di Arca Capitanata Donato Pascarella ha annunciato che è stato pubblicato il nuovo bando e il relativo modello di domanda per l'assegnazione di altri 14 alloggi a canone sostenibile nel quartiere Ordone Sud a Foggia. Il bando è destinato ai nuclei familiari a basso reddito, compreso tra 15.250.000 e 30.500, anche monoparentali o monoreddito, composto da un numero massimo di quattro persone di questi alloggi. Tre sono destinati a chi ha perso l'abitazione dopo separazione. Le domande dovranno pervenire all'Arca Capitanata entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio prossimo. Grazie a tutti.